ragazzi io vi ringrazio per tutti i consigli che mi date però c'è a volte ricevo dei messaggi e con tutto il bene che vi posso volere dico perché cioè io devo secondo questa signora ve lo metto qui non fare espressioni perché se no mi vengono le rughe quindi così sarà così tutto il giorno buona espressiva dicevo che io non mi faccio venire questi complessi perché se avessi dei complessi mi sarei fatta anch'io qualche trattamento non lo faccio perché mi piaccio così mi vado bene così e quindi amen però mi fa riflettere questa cosa che non è la prima volta che ricevo questo tipo di messaggi perché magari io sono veramente tanto espressiva e quindi mi consiglio perché così ti vengono le rughe ragazzi io non ce la faccio perché la nostra resa linda è in un momento delicato della sua vita quindi tende a prendere queste cose male io per esempio commenti negativi cose così neanche li leggo un bacione al prossimo video ciao